Recentemente potenziato, con otto posti letto in più, non sta registrando particolari picchi di accesso il pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo, anche in questi giorni di grande calura estiva. Sono però in aumento i casi di anziani disidratati. La situazione degli accessi non è cambiata rispetto a precedentemente, cioè gli accessi sono comunque sempre tanti. È cambiata casomai un po' la tipologia dei malati. Abbiamo molti anziani che purtroppo con questo caldo non bevano, come sappiamo. Spesso e volentieri sono pazienti che fanno i diuretici e quindi la tipologia degli accessi è dovuta più che altro ad anziani, persone fragili, che spesso e volentieri arrivano con dei quadri di disidratazione che noi nel 90% risolviamo, però abbiamo sempre bisogno di 24-48 ore per idratarli. Una situazione più o meno analoga in tutti i pronto soccorso del territorio aretino. Sì, la situazione non è molto diversa in tutti i pronto soccorsi, in più noi abbiamo pronto soccorsi esposti al flusso turistico e anche lì abbiamo pressioni importanti. Ma il personale ha grandi capacità, ha grande professionalità, quindi la preoccupazione c'è, ma sono sicuro che il sistema della sud-est reggerà tranquillamente con la sua tradizionale forza quest'onda.